Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qui su un sito che si chiama agar.io ragazzi lo riscriverò in descrizione per essere sicuri che lo troviate e è un sito molto simpatico, perchè praticamente è un giochino semplicissimo, veramente semplice che si usa a browser, quindi direttamente online, non serve scaricarlo metterete il vostro nick, io in questo caso metto Mordug seleziono la regione in cui voglio giocare, in questo caso Europa o free for all o a team, io direi di giocare free for all che ne dite? Faccio un paio di partite così vedete pure com'è il gioco play, ok, io sono questa pallina, la posso muovere con il mouse ho altre due opzioni, il W per sparare delle mie particelle per tirarle addosso a qualche compagno se magari sono in team, o per liberarmi, alleggerimi e scappare più velocemente oppure spazio per dividermi e colpire l'altro avversario, quindi mi splitto in più parti quello lì grossi che vedete, tipo quello, sono dei player io devo riuscire a prendere più palline possibili, a cercare di evitare di essere colpito e di essere mangiato perché se no si rinizia da zero da un piccolo pallino e mangiare gli altri per crescere in questo caso posso fare Hong Kong che era FK perché sicuramente stava facendo i cavoli sua mangiarmelo e crescere attenti a queste forme che vedete qui a fianco queste sono pericolose se siete troppo grossi se siete troppo grossi e andate addosso vi splittate mille pallettine piccolissime allora Hong Kong sta di nuovo FK, quello Hong Kong è buono da farmare grazie oh, oh, no, 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 ciao, ciao allora, mi splitto? no, ho lisciato allora, a vedere che quello si è ingrandito è la stessa cosa che succederà a me praticamente adesso quando mi sono splittato ci vorrà un po' di tempo prima che si riassemblano quindi per adesso andremo splittati in due parti posso splittarmi in più parti ma non conviene quasi mai perché poi dopo vi mangiano tutti insieme allora, lo scopo giustamente è fare più punti ma è anche cercare di diventare più grosso ragazzi in pratica è un gioco infinito e per passatempo quando aspettate un caricamento dell'orna e un caricamento di Minecraft potete giocare a questo il nazi, quel coso lì brutto ti prendo preso no, 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 me scappa, me scappa, me scappa, me scappa sei un maledetto non ce la farai a scappare così eh, ma sai che scappa invece non riesco a chiapparlo, guardate l'inseguimento piglialo no, 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 si vuole mangiare a me questo maledetto vieni qua, vienici vienici ho detto vienici dammi retta oh, sono ricresciuto nel momento no, no, no che culo se siamo salvati no, non se siamo salvati ancora quello si può ancora splittare se si splitta adesso siamo morti lo dico no, 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 no no, no, ti odio, ti odio guardatelo come ci inseguono oh, oddio no, sto andando addosso ai grossi ai troppo grossi sto andando dai, 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 unisciti unisciti, ok sono cresciuto un pochino sto durando anche troppo ragazzi per una partitina che volevo farmi, eh questa è una buona cosa oh, lo prendo, lo prendo preso mi sono dovuto splittare però ma è pericolosa la faccenda ma vengono addosso a me quella pallona gigante che mi vuole prendere io voglio prendere sto nazi qua big titi vieni qua big titi girl la ragazza aveva i detti grandi allora no, mi sono splittato in 4 sbaglio enorme ragazzi adesso sono 4 palline no, no, no i C, ridammi Morduk ridammi Morduk i C ridammelo, ok non si è splittato perché c'era troppi grossi intorno e se si è splittato era morto lui eeeh bim no, niente preso preso ok, ok sono 800 e rotti non ci provare maledetto ora come cerca di no freghe te freghe te proprio e non mi faccio prendere così facile vienici cazzarola vienici che sono più grande io non te ne sei accorto per caso è bello che lì vai a sbatte mangiato yeah qualcun altro da mangiare ini vieni qua ini vienici che te lontani da me ini sto diventando veramente enorme ini eccolo guarda che culo che c'ha e niente sono alla pari con tequila un'altra volta va, tenete qui là ciao gente ciao pie 1245 tequila sei ridotto sicuramente qualcuno l'ha mangiato olè olè passiamo dappertutto guardate sta big di big di vieni qua niente non mi faccio a mangiarla grazie buona mangiata molto gentile che bello 1245 ancora sto com'è possibile sono cresciuto what the fuck adesso voglio mangiare qualcun altro ciao poison lo sai che sei più piccolo di me oh sbam doppio doppiamento 1380 però non riesco a chi appallo mannaggia la miseria oh poison poison vieni qua tu fai una brutta fine oh palline 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 tante palline grazie si vabbè mi hanno dato pochi punti però le palline oddio mi sono incastrato da solo no mi si mangia un pezzo no 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 non splittarti non splittarti no vai via vai via non mi molla non mi molla se si splitta mi mangia se si splitta mi mangia aiuto perchè non mi mangia io così mi so salvato Mi splitto e mangio tutto vai E poi me la do No 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 Non ci pensare proprio Non mangerai i miei bambini Non lo puoi fare Sono grandi quanto a voi Mi spiace E' bello che possono diventare ancora più grandi Adesso che si uni Che cosa ha fatto questo come ha fatto Riuscite a mangiarmi No no me l'ho circondato Sto per morire ragazzi No me l'ha splitto via No 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 me hanno incastrato Ciao me la do Vieni qua Mangiato Mangiati Siamo tante palline Posso splittarmi ancora Guardate quante palline siamo diventate Oddio no 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 ho sbagliato Sto in mezzo a troppe persone Questi mesi maniano Guardate una miriade di palline sono io No no aiuto Ecco qua M'hanno mangiato Morto Va bene ragazzi Questo è un giochino molto simpatico Che è un browser game Che viene utilizzato molto spesso Come pausa Nei giochi o negli streaming Ragazzi E' un gioco molto semplice Molto leggero Però è abbastanza divertente Perché effettivamente Devi scappare dal più grosso Che mangia il più piccolo Come sempre Va bene ragazzi Questo era il sito Spero vi sia piaciuto E ci vediamo alla prossima puntata Di altri giochi strani E ci vediamo alla prossima puntata E ci vediamo alla prossima puntata